amici buona serata benvenuti a questo quinto appuntamento l'ottava alta della cooperazione umana un'idea di stefano petrucci che ci guida sempre in questi incontri ciao stefano ciao fabio ben trovati i nostri ospiti innanzitutto ma anche i nostri ascoltatori allora avete visto il titolo di oggi che tra poco stefano ci spiega ma andiamo appunto a vedere chi c'è oggi con noi volti conosciuti innanzitutto ritorna con noi eddie pellegrino ben ritrovato eddie che era stato con noi nella prima puntata ciao buongiorno e grazie grazie dell'invito un caro saluto a tutti quanti e poi ritrovo con piacere cosimo massaro esperto di politica monetaria impegnato nel diffondere la colossale truffa dietro la creazione della moneta divulgatore facilitatori di verità come ama definirsi di verità scomode e in antitesi al pensiero unico dominante ciao cosi ciao caro fabio saluto te tutti gli altri illustri ospiti e tutti coloro che ci seguono e ci seguiranno in futuro e per la prima volta con noi su questo canale fabio giuia speaker doppiatore narratore produttore di audiolibri musicista cantante conduttore insieme a giampaolo del bianco del podcast alla ricerca dell'anima benvenuto fabio grazie fabio e grazie a tutti grazie dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori naturalmente allora ricordiamo che nel corso di queste di questi incontri di questi varchi come li ha chiamati in modo suggestivo stefano vi proponiamo delle pillole di un corso realizzato da stefano il link lo trovate in descrizione e oggi stefano parliamo giochi cooperativi cioè giochi cooperativi la teoria dei giochi è diciamo la definizione che inquadra tutta una serie di ricerche sperimentazioni condotte ad opera di alcuni economisti alla ricerca di quelle che possono essere le strategie competitive o cooperative all'interno di quelli che sono gli scenari dei comportamenti umani sia in area business ma anche in area sociale ma anche in area strategica politica per definire anche parte sempre comunque da scenari di studio militari per cui come vincere le guerre no come prevedere i i movimenti è molto legato anche alla scacchistica quindi alle strategie degli scacchi questo il loro modo di intendere la ricerca e l'esplorazione del comportamento umano per cui all'interno della teoria dei giochi troviamo tutto un linguaggio tutto suo che magari dalle pillole poi emergerà e qualcosa potrò affinare anch'io si tratta di esplorazioni matematiche statistiche basate su alcune ipotesi strategiche di comportamento in alcune situazioni in cui l'essere umano si può trovare agendo o in coppia o in gruppi in varie situazioni attraverso queste simulazioni quindi queste teorie dei giochi che sono proprio impostate come se fossero dei giochi eh giochi di scacchi giochi di risico quindi il linguaggio è molto quello in realtà emergono secondo me ehm delle suggestioni che sono molto utili per mandare avanti un ragionamento sui modelli cooperativi non necessariamente agganciate a questo genere di modelli teorici che secondo me non danno tantissimo noi abbiamo eh esplorato la fisica quantistica quanto ci dà in termini di suggerimento la natura no? Eh noi dobbiamo ovviamente fare conti anche con le proposte eh di meccanismi cooperativi ad opera dell'economia che però ha fatto ben poco tra questo ben poco c'è questa grande gra questo grandissimo contenitore della teoria dei giochi che sono tantissimi dove si cimentano gli economisti così dobbiamo immaginare come si comporterebbe l'essere umano in alcune situazioni. Allora io direi eh di cominciare vedendo subito la prima pillola che oggi ne abbiamo cinque da vedere eh sono tutte abbastanza brevi che possono così aprirci al dibattito. Cominciamo da questa. la teoria evoluzionistica dei giochi è di fatto una combinazione tra la teoria dei giochi classica e quella biologica. Quindi ci sono come vedete anche delle ehm varianti evolutive delle della teoria dei giochi eh che dalle quali noi evinciamo che esiste un meccanismo di correlazione. Cioè un individuo sceglie di giocare con giocatori del suo stesso tipo. Simile il simile che attira altro simile. Questo è un attimo è molto importante. Ci fa anche un po' da segno su questo aspetto perché c'è un qualcosa di strano che accade quando vengono studiate le dinamiche cooperative o competitive perché si vede che al di là della convenienza oggettiva o meno ci sia una tendenza dei giocatori a giocare nello stesso modo comunque con persone che si ritengono in risonanza. Da questo punto di vista gli egoisti dovrebbero essere attratti da egoisti ma gli egoistici pensano solo per sé e quindi tendono ad annullarsi gli altruisti invece tendono a ritrovarsi ad aumentare. Quindi teoricamente già guardando così questo aspetto gli egoisti tendono ad eliminarsi e a ridursi gli altruisti invece ad aggiungersi e ad aumentare. Allora mi ha colpito questo fatto no anche dell'associazione cioè uno sceglie di giocare con i propri simili sostanzialmente. Io partirei da qui perché poi questo è un tema che è legato proprio alla cooperazione con gli altri perché appunto no uno coopera magari solamente con chi elegge proprio proprio simile. Partiamo da Eddie che ci dici? Molto interessante interessantissima questo questo primo aspetto è veramente ci fa riflettere su quelle che sono le dinamiche dell'essere umano cioè le dinamiche comportamentali dell'essere umano che per la maggior parte dei casi sono inconsapevoli e sono dinamiche che hanno a che fare anche per quello che mi riguarda, il mio studio riguarda come magari non tutti sanno la numerologia e la correlazione dell'essere umano con i numeri come manifestazione naturali no? Come le azioni dell'essere umano come manifestazione della natura e la natura ci insegna che con le sue stagioni che ci sono differenze no? Tra stagioni ma ci sono anche delle situazioni dove la mezza stagione unisce le varie stagioni cioè una mezza stagione entra sempre in ballo quando devi unire ad esempio l'autunno con l'inverno l'inverno con la primavera e via di seguito e questa mezza stagione si riflette proprio in alcune personalità degli esseri umani queste personalità degli esseri umani si comportano come ponti pontificatori mediatori e allora sono caratteristiche che entrano proprio all'interno della personalità e come si riallaccia a questo discorso? Si riallaccia con il fatto che ognuno di noi ha una tendenza no? Chi è primaverile ha la tendenza diciamo a confrontarsi no? Con i propri simili cioè perciò con persone che sono primaverili così anche gli invernali cioè qui già soltanto prendendo come spunto primavera e inverno c'è questa primavera che tende ad uscire perciò persone che tendono ad andare verso l'alto ad uscire fuori e a manifestarsi con azioni piuttosto che persone invernali che sono tendenti a starsene in casa così come succede durante l'inverno bene ci sono poi persone che mediano tra una stagione e l'altra e allora le caratteristiche che vengono espresse attraverso i comportamenti delle persone che inglobano in sé queste manifestazioni naturali danno poi quelle che sono proprio le caratteristiche stesse della personalità è logico che una persona che si manifesta come mezza stagione è una persona che è predisposta a poter confrontarsi con tutti proprio perché conosce tutte le stagioni perché le deve unire insieme allora ha uno sguardo dicotomico vede una parte vede l'altra deve comunque conoscere una parte e l'altra mentre ci sono altre persone che tendono a manifestare una sola stagione e confrontarsi con la stagione simile no e allora anche in questo modo di poter vedere le persone in queste loro manifestazioni che sono manifestazioni che si deve avere degli occhi speciali per poterle vedere da questo punto di vista io lo esploro attraverso la numerologia ecco si riesce a vedere come le collaborazioni si innescano proprio per via di queste caratteristiche che sono al proprio interno che sono per la maggior parte inconsapevoli ma chi fa studi del genere come queste teorie dei giochi conosce molto bene no conosce molto bene e allora la conoscenza fa sempre la differenza in questo in questo senso la collaborazione nasce proprio da questa conoscenza ci vuole una conoscenza di base una conoscenza alchemica per riallacciarmi alla alla passione di stefano che ci dia la possibilità di comprendere come alcune persone sono più predisposte a collaborare con altre mentre altre persone e ce ne sono tantissime perché la natura non è stupida ha creato la possibilità di dare a tante persone la possibilità di poter essere dei mediatori dei collaboratori dei pontificatori e allora questo secondo me fa la differenza la conoscenza in questo caso dei comportamenti delle persone fa la differenza in questo senso e fabio che ne pensi di tutto questo beh io vorrei parlare da giocatore non non da giocatore d'azzardo ma effettivamente io sono appassionato di giochi da tavolo e non anche giochi di ruolo sia cooperativi che non cooperativi e un po' perché in famiglia abbiamo fatto una sorta di scelta di campo cercando di ridurre al più possibile i videogiochi per i nostri figli e quindi siamo abbastanza dentro proprio al mondo effettivo del gioco effettivamente sul sul campo ecco e e spesso mi è capitato di notare questa questo argomento il fatto che soprattutto nei per quanto riguarda i giochi cooperativi devo dire stefano le persone tendono a mettersi a giocare insieme a persone dello persone simili diciamo così noto che nei giochi non cooperativi invece emergano maggiormente proprio le diversità le peculiarità delle delle persone in un certo in un certo in un certo modo vuoi per la maggiore così competitività dei giochi non non cooperativi e sono comunque assolutamente d'accordo sul fatto che ci si incontri tra persone più simili in uno stesso gioco e non solo ma una un fattore molto rilevante secondo me è proprio che quando ci si mette a giocare e quindi ci si mette in gioco non solo su un tavolo di gioco ma in generale nella vita quando ci si mette in gioco anche con persone che non si è mai conosciuto diventa quasi un un momento veramente di di grande condivisione no di caratteristiche differenti tra persone spesso appunto soprattutto nella cooperazione nel raggiungimento di uno stesso obiettivo quando vi è effettivamente un obiettivo cooperativo nel gioco vi è assolutamente una grande coesione tra le persone anche se le persone non si sono mai conosciute e questo secondo me andrebbe molto bene come allenamento anche no nelle faccende quotidiane magari in in situazioni più lavorative più magari di di nel momento in cui ci dovesse essere proprio un obiettivo comune proprio lavorativamente parlando il saper riportare ciò che effettivamente magari si potrebbe affrontare durante un gioco per cui trovo la teoria dei giochi assolutamente molto educativa in questo in questo senso andrebbe molto bene riportarla nelle situazioni di vita reale tra virgolette ecco cosimo può essere considerato effettivamente anche un grande gioco ad esempio tutta la questione monetaria a volte sembra veramente di avere a che fare col monopoli fabio assolutamente sì diciamo questa cosa mi dà spunto di analizzare la questione in maniera un po più ampia no in effetti c'è anche la guerra monetaria no anzi soprattutto prima che militare è una guerra monetaria e la moneta debito emessa dai globalisti dall'usurocrazia internazionale cerca di dominare tutto il pianeta attraverso appunto il debito e vediamo e analizziamo anche per dire da questo punto di vista i globalisti sono eccessivamente egoici sono come dire quell'impersonificazione dell'energia luciferina dove anche nella metafora eh cattolico cristiano lucifero l'angelo caduto si è ribellato a dio per eccesso di ego quindi andiamo verso un egoismo eh accentratore dominatore su tutto il resto del mondo e sul controllo globale sia dei popoli che su ogni individuo quindi la moneta è uno degli strumenti primari che utilizzano questi eh questi personaggi chiamiamoli così eh soprattutto negativi per cercare di controllare eh tutto e tutti attraverso le loro piramide del potere naturalmente io le ho definiti poi un'intelligenza cancerogena perché fondamentalmente l'eccesso di ego ti porta a stringere a stringere a stringere e a distruggere addirittura l'organismo di cui fa parte fanno parte anche loro ecco perché sono autodistruttivi e le forze del male non hanno mai prevaricato sulla forza della vita mai come si dice sempre eh il diavolo ha fatto sempre le pentole non hanno mai fatto i coperchi dall'altro punto di vista poi perché questa teoria dei giochi molto bella che fa sviluppare questi concetti l'eccesso anche di altruismo può essere deleterio quando nel momento in cui si annulla anche il proprio ego cioè la giusta misura di ego serve a mantenere in equilibrio sia il concetto altruistico che il concetto egoistico fondamentalmente anche come ha sempre lanciato il messaggio cristiano ama il prossimo tuo come te stesso non ha detto annullare te stesso nei confronti dell'altro oppure prevaricare il tuo ego nei confronti degli altri quindi un giusto equilibrio fra le parti poi rapportandoci anche al discorso della guerra per dire nello stesso libro di sun su nell'arte della guerra il generale più potente fondamentalmente è quello che vince senza combattere c'è quello che riesce ad adoperare delle strategie se vogliamo anche collaborative dove riesce a portare dei risultati senza combattere l'estremizzazione dei concetti per dire sia dualistici che altruistici oppure qualsiasi estremizzazione portata all'eccesso cioè tipica del dualismo del dualismo divisivo porta in effetti al conflitto io in effetti teorizzo sempre la questione del dualismo inclusivo dove c'è il rispetto dei due opposti che lavorano in comunione in comunione che poi fondamentalmente metaforicamente anche quello che avviene in un matrimonio come dovrebbe essere dall'energia femminile all'energia maschile che ci si unisce in un'unica entità non distruggendo le parti nel senso anche nella propria individualità e questo è un punto di vista che sto riportando anche nel mio nuovo libro c'è il punto di vista trinitario cioè vedere le cose non in senso monista non in senso dualistico ma in senso trinitario nel senso dell'unione stefano vuoi aggiungere qualcosa se no passiamo al video seguente ma io volevo soltanto no intanto dare un feedback a quello che ho ascoltato e mi fa molto molto piacere vedere tre risonanze diverse molto profonde una piccola suggestione vedete quante quante ispirazioni ha tirato fuori attraverso i nostri ospiti semplicemente sottolineare il fatto che in questa informazione c'è anche la chiara indicazione quanto i processi cooperativi che tendono verso l'unità quindi la sorgente alla quale veniamo sono naturali sono divini sono assistiti dallo spirito quanto invece i processi diciamo di parassitaggio di dominio di ego sono autodistruttivi quindi in sostanza guardando spostando l'asse dello sguardo dal breve al medio al lungo a lunghissimo termine la non c'è partita per coloro che hanno diciamo un approccio cooperativo vorrei salutare giampaolo bianchi che oggi non è con noi perché ha una forte febbre però è con noi comunque spiritualmente gli auguriamo una pronta ripresa assolutamente andiamo avanti allora con la nuova altro aspetto importante aveva parlato dei giochi one shot e giochi ripetuti anche il dilemma del prigioniero per esempio fatto una volta produce dei risultati ma se teoricamente dovesse essere fatto più e più volte i risultati sarebbero molto diversi quindi andiamo a vedere i giochi e il fattore tempo i giochi ripetuti sono quelli che si ripetono più volte con gli stessi giocatori una cosa interessante questo è poi magari per le leggete con più attenzione le meditate con più attenzione se il gioco viene ripetuto più volte e cambia l'atteggiamento perché incominciamo a studiare anche il comportamento la reputazione il carattere l'anima direi dei nostri avversari compre per comprenderne un po prevederne le le strategie sulla base di quello che stiamo facendo esperienza essere le sue caratteristiche no se i giocatori sono impegnati in questo gioco per più turni più turni e man mano che il gioco va avanti tendono a smettere di competere e tendono a cooperare nel lungo termine si cerca un equilibrio naturalmente un fattore innato che porta alla rimozione degli aspetti più forti della competitività e qui porto un'immagine di un film ricomincio da capo dove bill murray si svegliava ogni mattina e ogni mattina ripeteva la stessa giornata questo è molto interessante perché ci fa riflettere un po come tutto sia come un gioco ripetuto e se noi entriamo nella ripetizione di un'esperienza noi possiamo massimizzare l'esperienza stessa e gli strumenti che possano estrarre oro da quelle esperienze e allora questo bill murray svegliandosi ogni mattina rifaceva sempre la stessa giornata ma piano piano giorno dopo giorno diventando sempre più consapevole diventando sempre più attento fuori dalla reattività inizia a costruire un nuovo sé quindi le sue scelte cambiano completamente perché intervengono nel lungo termine una serie di comprensioni che fanno cambiare completamente l'atteggiamento io molto burbero di questo personaggio in un personaggio invece che diventa amabile allora qui altri input che che ci arrivano è molto affascinante questa questa teoria dei giochi ed è altissima ma tra l'altro quel film è uno dei miei preferiti insomma da lì ci dà la comprensione che ripetendo continuamente le nostre giornate e noi voglio dire quante volte abbiamo ripetuto la nostra giornata quante volte ci siamo svegliati alla mattina rifacendo sempre le solite cose e quante volte ci siamo lamentati che magari le cose non cambiano sono sempre le stesse perché facciamo sempre le stesse cose questo è un grande insegnamento che un grande input che stefano ci ha dato anche per quanto riguarda il giocare noi giocare con la vita in definitiva questa vita non per tutti è così non tutti ci arrivano velocemente al fatto che la vita sia un gioco no è un gioco dove le istruzioni e vengono date le regole del gioco vengono date via via durante il nostro il nostro il nostro vivere e l'alzarsi tutte le mattine avendo a che fare con una solita routine ma con cose diverse anche perché noi siamo sparati nello spazio i pianeti girano sempre intorno al sole da dandoci questa opportunità di vivere sempre la solita giornata che inizia dalla mattina come se fosse una primavera e finisce alla sera alla notte come se fosse un inverno però in maniera diversa e questo dalla porto l'opportunità alle persone di evolversi di fare esperienza e anche nei giochi c'è questa comprensione no di mettersi in competizione con l'altro e l'altro ci insegna continuamente qualcosa noi pensiamo di essere magari più bravi oppure essere simile alla persona che abbiamo di fronte ma poi la persona che abbiamo di fronte con cui siamo in competizione ci insegna qualcosa allora piano piano lì magari di per lì c'è questo attrito no in cui la competizione il fatto che possiamo perdere di fronte a questa competizione davanti davanti di fronte a questa persona segue la riconoscenza quella persona per averci dato qualcosa che ci mancava così come come ho fatto prima l'esempio di una primavera che pensa solo a se stessa no che pensa soltanto a tirare su il la pianta a far crescere la pianta o come alla mattina no a far crescere la giornata ecco in quel momento lì una primavera che si rende conto che anche l'inverno importante per dare armonia al tutto diventa una primavera evoluta c'è una persona rapportata da una persona che nella vita svegliandosi tutti i giorni e di facendo sempre la solita routine comincia a comprendere che deve comportarsi in un'altra maniera e allora questo acquisire consapevolezza insegnamento e conoscenza dall'esperienza dalla persona l'opportunità di completarsi allora poi logicamente le regole del gioco della vita cominciano ad essere facili ad essere comprese e anche ad essere poi emanate e razionate durante la propria giornata allora lì la collaborazione comincia a diventare più facile si collabora con gli altri si collabora non soltanto con gli altri ma si collabora con l'energia e la natura che ci ospita in questa dimensione duale molto interessante grazie a stefano per questo stimolo ecco questo aspetto fabio della competizione che a volte scatta tra persone non simili ma spesso e lo abbiamo visto anche nel nostro campo negli ultimi anni è stato uno dei mali se possiamo considerarlo tale cioè la competizione che scatta anche tra simili e poi competizione che impedisce spesso la collaborazione quindi è certamente un tema sul quale lavorare beh assolutamente sì devo dire tu hai citato insomma gli ultimi anni gli ultimi periodi credo che si sia vista questa cosa in maniera assolutamente amplificata oltre che nella competizione fine a si stessa proprio nel nel nelle fazioni no che si vengono a creare per qualsiasi tipo di argomento avendo un mondo che si è allargato in qualche modo si è espanso e ridotto allo stesso tempo in una rete come l'internet sicuramente abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni espressioni diverse opinioni diverse eccetera che si vengono veramente poi a suddividere in fazioni diverse vere proprie fazioni che combattono le une con le altre ma volevo come già detto benissimo è di sottolineare l'aspetto delle ripetizioni in quanto opportunità evolutive no noi viviamo effettivamente di ripetizioni ma allo stesso tempo dobbiamo coglierne l'opportunità e non sempre è semplice no cogliere l'opportunità nella nella ripetizione perché la ripetizione ci offre un'opportunità ma poi quell'opportunità dobbiamo noi saperla far evolvere in qualcosa che magari diventerà una nuova ripetizione ma i famosi copioni che la vita ci presenta di fronte tutti i giorni sono proprio derivano proprio da questa opportunità di poter cambiare e mi veniva in mente un altro film questa volta italiano con edoardo leo di cui non ricordo assolutamente il titolo ma questo per fattori miei di memoria nulla in cui lui si svegliava ogni mattina o meglio si svegliava nella data del suo compleanno quando erano già passati 88 10 o comunque diversi anni quindi lui in sostanza da un compleanno all'altro non si accorgeva di avere vissuto quindi non coglieva l'opportunità che tutte queste ripetizioni tutte le sue giornate effettivamente gli stavano dando e man mano si accorgeva di avere sbagliato tutto e qualsiasi settore della della propria vita o comunque di aver non saputo cogliere determinate opportunità così allora e tanti spunti anche in questo caso molto molto belli perché possono fare evidenziare alcuni concetti molto importanti il fatto ad esempio partendo dal punto di vista della competizione non è tanto il male nella competizione in sé ma quanto l'intento che si mette nella nella competizione io ti parlo anche da agonista prima e poi maestro di arti marziali la competizione aiuta a crescere la competizione nei confronti dell'avversario perché anche come dire l'avversario è colui che mette a nudo le tue debolezze presa da un punto di vista corretto aiuta a crescere aiuta come dire a evidenziare appunto le nostre debolezze e a migliorarci quindi una sana competizione che in tanta tanta storia del passato agonistico di tanti sport e anche sport da ring ha fatto diventare anche grandi amici combattenti che magari si sono scontrati per due tre quattro volte sul ring cioè li ha uniti veramente in qualcosa in un rapporto umano molto molto bello quindi la competizione deve avere l'intento puro l'intento della crescita l'intento e il rispetto dell'avversario mai umiliarlo quindi confrontarsi appunto per avere una crescita poi c'è invece quell'intento negativo quell'intento nefasto nell'umiliare l'avversario nel confrontarsi con l'avversario con l'odio con il rancore con tutti questi atteggiamenti che vale anche per tutto quel mondo oramai diviso che c'è stato in questi anni come dire sia della controinformazione sia del mondo cosiddetto dei risvegliati che poco risvegliati si sono manifestati dove abbiamo notato che in effetti c'è stato tanto odio fra le varie parti e questa cosa certo non ha portato bene quindi il problema appunto da questo punto di vista è l'intento che si mette nell'azione non tanto la contività la competitività poi altro punto che abbiamo analizzato in questo momento in effetti uscire dalla routine la routine può essere valida e buona a ripetere le stesse cose a perfezionarle ma poi come dire dobbiamo uscire da quell'area di comfort per cercare di evolverci se nel momento in cui cadiamo nell'area di comfort dove ci annoiamo abbiamo uno stato di come dire di malessere di non soddisfazione della nostra vita appunto perché siamo caduti in quella routine negativa e bisogna come dire avere la giusta consapevolezza per acquisire le giuste nozioni per uscire da quella area di comfort che ci spinge a crescere e a fare qualcosa di nuovo quindi come vediamo ogni volta i punti di vista sono importanti nelle azioni che ci circondano e che noi commettiamo quindi avere sempre una visione più ampia rispetto al nostro piccolo punto di vista che vede solo il nostro io avere una visione molto più ampia rispetto ad avere una visione solo per dire altruistica del mondo esterno e anche in questo caso dobbiamo avere una comprensione del tempo passato presente futuro che ci faccia sapere da dove veniamo dove stiamo e dove vogliamo andare con una nostra visione del futuro che ci porta come dire a realizzare anche i nostri sogni stefano poi vediamo l'altra clip che ci dici su questo giro che abbiamo fatto ma semplicemente che il fattore tempo nell'approccio cooperativo è uno dei fattori critici in assoluto più importante di successo di un processo cooperativo nel nella pillola che abbiamo visto insieme infatti si citava uno degli aspetti legati al tempo la ripetizione ma ce ne sono tanti altri per cui nel percorso poi ho un modo nel video corso di ritornare al fattore tempo per alleggerire un po l'idea che abbiamo delle difficoltà della cooperazione che spesso sono soltanto mentali ancorato a un tempo a una durata del tempo dell'esperienza percepita come tale sbagliato per cui poi in temi molto pratici si tratta nella pillola precedente di verificare quanto un comportamento non funzionale alla cooperazione e non vada cacciato via dal sistema cooperativo ma vada conservato il sistema cooperativo per fargli vedere quanta strada in più si può fare e non punendo cacciando via il defezionatore questo sarà un aspetto che in una delle pillole uscirà quindi lo sto agganciando che è un aspetto fondamentale come gestire i defezionatori cioè coloro che sbagliano il comportamento cooperativo e diventa un comportamento egoico è necessario per educare le persone a scoprire eh loro personalmente quanto è più remunerativa la cooperazione rispetto alla competizione dargli lo spazio dell'esperienza quindi ripetere degli ci deve essere sostanzialmente una guida all'interno del processo cooperativo che sa vedere i tempi di maturazione di questo aspetto che se eh noi non lo esperienziamo diamo per scontato abbiamo la vista breve anche se poi si è scoperto anche con la teoria dei giochi cosa che non si spiegano assolutamente il comportamento cooperativo è innato ed è irrazionale ed è testardo nell'essere umano anche fuori diciamo dalla razionalità e allora vediamo la terza pilla e vediamo come effettivamente funziona questa strategia pamper focaccia che effettivamente è stata eh portata eh portata eh all'interno della teoria dei giochi circa nel 1980 e quindi utilizzata anche nel dilemma del prigioniero ripetuto più volte un agente operatore un giocatore che fa uso di questa strategia sarà inizialmente collaborativo ma in seguito risponderà con la stessa strategia delle mosse degli avversari ecco che cosa vuol dire tit portez pamper focaccia creiamo un gruppo cooperativo io ho un atteggiamento cooperativo e lo mantengo fino a che tu lo mantieni nel momento in cui tu invece sei preso dalla tentazione eh di defezionare quindi di fare i tuoi eh i tuoi interessi egoistici il mio eh mio cooperare altruistico smette quindi mi comporto come ti comporti tu e quindi salto quello che è l'altruismo reciproco perché è un aspetto diciamo umano non sono naturale tutti gli esseri viventi eh l'altruismo reciproco in biologia e mi ritrovo invece a scegliere di fare un'azione vendicativa tra virgolette o di punizione di correzione diciamo così che restituisce all'altro il comportamento sgradevole o scorretto che lo stile quell'altro sta facendo al gruppo quindi l'applicazione della strategia dipende da quattro condizioni in partenza se non c'è stato alcun tipo di provocazione la gente è sempre cooperativo se invece viene provocato la gente si vendica e corregge la gente perdona questo è molto importante quindi io mi vendico ti punisco ma ti perdono ti perdono e ti do la possibilità di tornare a essere cooperativo quindi non ti faccio fuori la prima volta la seconda volta cerco di tenerti di allarmarti di punirti ma di perdonarti darti fiducia e dire ok così capisci che conviene cooperare la gente a un certo punto ha una consistenza opportunità di competere con l'opponente più di una volta in quest'ultima condizione è importante che la competizione continui abbastanza a lungo per consentire un numero di ritorsioni di perdono sufficiente a generare un effetto a lungo termine più rilevante rispetto alla perdita di cooperazioni quindi c'è un comportamento non efficiente non funzionale se lo lasciassimo correre sarebbe un tumore che può crescere domani o dopo domani invece interveniamo e torniamo collaborativi poi se c'è di nuovo un errore puniamo torniamo collaborativi questo per un certo numero di volte ripetuto quindi se ci sono più occasioni competitive mette in condizione colui che chiamiamo agente colui che vuole imprimere la strategia di ottenere risultati nel lungo termine stabilendo anche fiducia con gli interlocutori è una combinazione tra altruismo vendicatività perdono e chiarezza con queste qua ci aiutano a comprendere quali sono le motivazioni le condizioni e le azioni che possono favorire la cooperazione vediamo altruismo impedisce di non procurarsi i fastidi non necessari quindi la prima il primo invito è a considerare la cooperazione l'altruismo perché già così invece di competere o sottrarre gli altri quindi di ottenere poi dei problemi dopo già questo mi libera tutta una serie di interferenze essere ottimisti vendagatività invece che un termine un po forte io lo direi funziona la rettificazione correzione ma va bene vendagatività il termine che usano gli economisti scoraggia la contrappa la controparte a persistere nel tentare la difezione quindi appena tu stai corrompendo il gruppo cooperativo defezionando tradendo eccetera io divento dal polso fermo e assolutamente dentro intransigente e restituisco pan per focaccia chiave perdono questo è molto importante quindi ti punisco ma ti sto già perdonando ti do la possibilità perché intendo e so che la collaborazione può ripristinarsi al medio lungo termine lo so quindi adesso ti accompagno io lavorando in un certo modo la chiarezza fatto aspetto fondamentale essere intelligibili trasparenti di anni credibili in modo tale che la cooperazione di lunga durata possa essere vista percepita e anche in quel tipo d'ospicata reciprocità è una reciprocità totale tu fai un favore a me io ne faccio una te tu fai un danno a me e io ne faccio una te quindi vedete un po su che basi primitive quasi davvero occhio per occhio dente per dente si basa a questo aggiustamento questo tit or test che sembra aggiustare e posizionare a lungo termine anche come posso dire le occasioni competitive in distenderle in occasioni cooperative e anche questo è un po particolare cioè è un livello basso di coscienza ordinario di coscienza che però che mettendo in fila questi aspetti dell'umanità nel momento in cui si entra in situazioni di interazione complessa con quelle che stiamo parlando noi vediamo come effettivamente diventano altamente efficienti anche dei comportamenti che potremmo chiamare primitivi noi ne teniamo conto di questa cosa qui c'è qualcosa però che manca e lo scopriremo quindi questo ci dà una soluzione ci aiuta molto ad avvicinarsi e a portare le fasi competitive in distendere in potenziali fasi cooperative ma voglio farvi notare come non è non è agganciata per niente ad aspetti di umanità alta ma umanità bassa con questo tipo di coscienza ordinaria però messe in questo tipo di ordine queste forze altruismo l'impiatività per toni e chiarezza portano diciamo secondo le sperimentazioni di lavorazioni parte dei giorni ha un ottimo equilibrio miglior equilibrio nel lungo termine ecco qua bene stefano bella anche questa quest'altro reparte ricominciamo ormai il giro è così e ricominciamo da ed è con queste caratteristiche che abbiamo visto è chiaro che in certi momenti bisogna fare un lavoro di introspezione molto forte perché in certi ambiti non è semplice averle tutte contemporaneamente no no è qui proprio il ruolo dell'arbitro diciamo in una competizione estremamente importante e quando c'è una competizione c'è sempre una squadra che si confronta con un'altra una squadra intensa intesa anche come individualità no anche un individuo che si confronta con un altro un individuo è fatto di più frammenti al proprio interno perciò come se fosse una squadra e allora anche la squadra bisogna di un allenatore e poi quando ci sarà competizione la competizione sarà gestita da un arbitro no che fa che regola diciamo la competizione e anche all'interno di una di un progetto ci vuole sempre un arbitro che osserva e mette insieme i vari frammenti anche perché siamo in una in una dimensione dove ognuno di noi è un frammento divino e quando se ne renderà conto ritornerà alla alla fonte no alla sorgente ci sono persone che hanno questo talento e ripeto sono persone che sono state scelte dalla natura per portare ad unire a mediare e sono persone che non hanno bisogno di fare un grande sforzo nel perdono no c'è un perdono che scaturisce dalla comprensione interiore che siamo tutti frammenti che siamo tutti facente parte di una circolarità dove ogni frammento rappresenta una parte del viaggio dell'energia che si trasforma nella sua nella sua circolazione e queste persone sono predisposte ad essere gestori di progetti gestori di gruppi che devono collaborare no gruppi di persone allora queste persone hanno in sé anche il talento di poter osservare le caratteristiche di una persona e poterla collocare laddove quella persona può dare il massimo così come fa l'allenatore quando deve allenare una squadra no sa che quella ad esempio una squadra di calcio sa che una persona molto veloce può correre sulla fascia ed è indispensabile sulla fascia allora allenatore mette lì la persona con quel tipo di talento così ugualmente sono chiamate le persone ad un'ottava alta nella collaborazione ad un'ottava alta che è richiesta in questo momento l'ottava alta per poter collaborare queste persone hanno il talento di poter vedere che siamo all'interno di una frammentazione questa frammentazione può essere unita anche attraverso la comprensione e la conoscenza di queste regole della teoria dei giochi che stefano oggi ci ha fatto conoscere già molto ma molto interessante assolutamente l'introspezione è alla base la crescita evolutiva personale spirituale è alla base no della messa in pratica dell'ottava alta della collaborazione se no non andiamo da nessuna parte non è possibile collaborare come lo intendiamo noi se non in situazioni di mercato dove oramai il mercato conosce bene queste regole di poter creare squadre dove ognuno ha il suo ruolo per le caratteristiche che gli competono derivanti proprio caratteristiche dalle sue potenzialità naturali e ancestrali questo questo intervento di eddi fabio sia sul fatto che spesso non si riconosce non solo nel calcio alla figura dell'arbitro ma anche altri arbitri che appunto possiamo trovare nel cammino e poi forse questo aspetto della cooperazione malgrado sia sia stata l'istanza che più è arrivata a tanti di noi perché non vi unite la classica domanda che è stata fatta e forse è quello che il potere teme cioè che ci sia questa cooperazione ed è per questo che vengono continuamente inviati stimoli di contrapposizione di tifoserie e via dicendo assolutamente sì l'ho trovata molto interessante questa pillola ma come dici tu Fabio vi è sicuramente no in un certo senso una non dico una voglia ma una predisposizione da certa parte di spingere proprio verso una competizione talvolta malsana a proposito di giochi mi vengono in mente alcuni giochi non cooperativi ovviamente che hanno tra le azioni possibili delle vere e proprie come Stefano diceva la vendicatività no delle vere e proprie azioni vendicativi e punitive nei confronti degli altri giocatori allo stesso tempo però questi giochi secondo me sarebbero veramente da prendere ad esempio per partire da ad un lavoro interiore no utilizzare proprio l'arbitro interiore per sempre come dicevamo prima per evolvere mi viene in mente a proposito di perdono il radical forgiveness di calling tipping dove effettivamente partendo da una situazione di copione poi come dicevamo prima e subendo una situazione magari vendicativa noi arriviamo al perdono assoluto il radical forgiveness per l'appunto che è quello che effettivamente ci fa poi poi evolvere e ci fa veramente crescere ci fa veramente fare questo salto benedetto salto evolutivo per cui in effetti ci vedrei molto bene no una sorta di lavoro interiore a partire da un gioco non cooperativo il vedere come si eh come effettivamente reagiamo a determinate caratteristiche di un gioco non cooperativo per poi arrivare eh ad una crescita Cosimo Allora Fabio ulteriori ottimi spunti per questa puntata quando diciamo nel clip che ha fatto vedere Stefano eh si analizzano appunto gli errori che magari può commettere qualcuno che poi vengono eh come dire fatti notare vengono puniti in quel caso il termine vengono vendicati ma poi ci deve essere il perdono e e si deve ripartire con una nuova e sana collaborazione E questo è tutto questo processo è molto valido e molto bello ed è un processo di crescita quando all'interno di un gruppo collaborativo comunque fondamentalmente tutti stanno lavorando per un intento unico Magari qualcuno può cadere nell'errore nell'eccesso di ego magari l'ho fatto in buona fede non si è accorto si cerca di farlo notare questo problema e ci si rimette tutti sul tavolo lì a rigiocare e questo va bene e il gioco dei ruoli appunto Il problema dove nasce come stavi accennando tu prima Fabio quando all'interno di questi giochi magari non tutti stanno giocando per l'intento unico realmente Magari troviamo qualche giocatore chissà è un infiltrato perché sappiamo che poi c'è anche un sistema esterno che cerca di lavorare per infiltrare tutti quei movimenti che da sempre ha infiltrato nell'arco della storia per portare la divisione per portare appunto il pettegolezzo per portare comunque sempre la manipolazione di un gruppo verso un altro ecco e lì dovremmo essere bravi a capire chi sta giocando in cattiva fede nel gioco perché sennò quell'unione non avverrà mai non avverrà appunto perché ci stanno degli elementi esterni o qualcuno che è pagato apposta per fare e creare questa divisione seminando sempre di zanzia parlando male di tutte e tutti e sappiamo che nel nostro ambiente c'è più di qualcuno che sta lavorando in questo senso e quindi come fare per difenderci da queste influenze esterne che mirano a dividerci portando anche all'attualità del nostro mondo che cerca di contrapporsi appunto a quel mondo globalista che cerca di dominarci tutto io dico solamente questo non dobbiamo mai perdere la speranza non dobbiamo mai perdere comunque la speranza verso il prossimo la fiducia verso il prossimo no quella che serve a creare appunto quella nuovo terreno fertile per ricreare un qualcosa di sano perché oggi hanno lavorato notevolmente nel diffidare di tutte e di tutti anche nel periodo della pandemianza per dire non abbracciare il nonno il nonno non doveva abbracciare il nipote per paura di ammalarsi cioè vedi una divisione totale nel creare appunto la paura verso l'altro ecco noi dobbiamo andare oltre questa paura che ci hanno istillato dentro e ritornare ad avere fiducia verso il prossimo e verso noi stessi e dobbiamo ripartire necessariamente da questo anche pur sapendo che comunque all'interno del nostro operato della nostra area comunque qualcuno sta giocando in cattiva fede bisogna metterlo allo scoperto bello spunto questo da parte di Cosimo come di Eddie e Fabio allora Stefano se sei d'accordo io vedrei insieme le due che rimangono sì ho reso il caldo prima dici il tuo sì sì perché questo è un aspetto che ritengo assolutamente importante quindi in modo molto breve riporto diciamo il tema centrale di questa pillola era il pub per focaccia cioè ti restituisco occhio per occhio dentro del dente il tuo comportamento per farti comprendere che è sbagliato ma ti riaccolgo nel tuo cambiamento quindi punire tra virgolette correggere educare i defezionatori ora questo è un aspetto così centrale che fa saltare tutti i progetti cooperativi degli ultimi vent'anni per quella mia esperienza questo è il tallone d'Achille che sto vedendo senza dare i titoli dei gruppi cooperativi i cui progetti stanno andando a mare per questo solito problema cioè quale? quello di non educare i defezionatori e secondo perché c'è un livello ancora più importante di non educare chi non educa i defezionatori cioè voglio essere più chiaro sia all'interno di un gruppo che si autoproclama cooperativo di alta spiritualità amore umano eccetera attenzione gentilezza e poi si aprono le riunioni e c'è un soggetto che parte in quarta è arrabbiato, ostende quello, quell'altro mette un'energia, un linguaggio di contrasto fa andare a mare la prima riunione fa andare a mare la seconda riunione quante ce ne sono di queste cose e poi vedi che chi ha la delega a curare quel luogo proteggerlo, consiglio di amministrazione, un'assemblea, una riunione e non fa questo avvertimento uno del cerchio deve allertare chi non sta punendo i defezionatori in questo caso non lo so, il presidente, il leader, quello che è e gli dice scusa ma stai vedendo che c'è un comportamento non cooperativo che rende tutto il progetto cooperativo un'assoluta bufala perché non è credibile un progetto cooperativo dove c'è una persona che costantemente o più volte defeziona, cioè mette l'energia contraria e tu non fai quello che devi fare io ho il compito di dirtelo caro mio leader perché io non mi sento tutelato il leader spesso non fa nulla perché negli ultimi decenni non c'è quella forza spirituale per direi bello mio stai cambiando gli accordi unilateralmente con chi l'hai fatta questo accordo con me che hai cambiato idea non sarà stato solo il berlusconismo ma da quando è sfociato il berlusconismo io ero abituato precedentemente bastava una stretta di mano con le persone per andare avanti adesso si dà per scontato che uno cambia idea o abbia comportamenti opposti a quelli di uno statuto di un manifesto e il leader e nessuno dice niente molti progetti cooperativi muoiono per questo perché non c'è la forza che è un fatto di spirito di educare defezionatori e soprattutto di ammonire chi non educa defezionatori che questa è una costante di molti leader che approfittano questo è il comportamento mafioso prendendo spunto da Fabio l'educazione di non punire defezionatori ce l'abbiamo noi dentro che siamo mafiosi con noi stessi e la stessa cosa poi si ribalta dopo questo è un aspetto che manda all'aria un sacco di progetti perché non si ha la forza di denunciare chi ha sbagliato nel suo interesse e nell'interesse del gruppo scusatemi ma era importante per me dirlo hai fatto bene perché hai fatto capire perché tanti progetti che magari avevano delle premesse io me ne sono ritrovato proprio in uno lo scorso anno anche quando ci siamo sentiti le prime volte che prometteva tanto bene grande comunità di intenti era un progetto associativo che poi nel corso dei mesi perché appunto sono accadute le dinamiche che hai detto e a un certo punto è diventato non era più sostenibile cioè sarebbe stato un errore continuarlo a volte serve anche la consapevolezza di capire quando è anche l'ora di fermarsi perché anche insistere per forza poi ti porta comunque l'ombicolo cieco allora vediamo l'ultima pillola che sono due realtà attaccate e poi chiudiamo perché ci deve lasciare dunque qual è la variabile che scompaggina ogni previsione matematico-razionale della scienza sociale circa il comportamento umano qual è? qual è quella cosa che ci sta sfuggendo? il comportamento umano risulta poco razionale molto più empatico e simpatico rispetto al comportamento razionale direi che è molto più animico cominciamo a utilizzare delle parole pertinenti e anima non è così prevedibile quindi la teoria dei giochi forse come tante altre teorie semplicemente manca dell'attore principale l'oste di casa l'ospite di casa la nostra anima la nostra parte spirituale sì sì e per questo incontro il paradosso della cooperazione cooperare risulta comunque alla fine l'azione migliore e possiamo dire che è irrazionale competere deriva da aspetti di motività bassa che afferiscono le nostre razionalità paura rabbia invidia eccetera è irrazionale essere egoisti cioè che ha senso ed è giusto pensare per sé è irrazionale ma è una razionalità base sulla quale possiamo costruire una razionalità più alta e possiamo dire quindi che diventa più logico in questa evoluzione umana iniziare a cooperare e per finire questa scala evolutiva diciamocelo che è umano ma umano con la un maiuscola quindi diciamo umano divino sentirsi uno quindi essere uno e cooperare da una da una fascia uno stato di coscienza in cui non senti di cooperare con nessuno senti di vivere con il tutto di cui tu sei parte espressione come tutti gli altri e sta sempre appeso a questo enigma quindi la cooperazione che al di là della situazione in cui ci troviamo emerge spontaneamente perfino nei contesti competitivi quindi c'è il cosiddetto paradosso della cooperazione che si trova a spuntare appunto anche nelle condizioni in cui non converrebbe cooperare e invece scopriamo che l'animo umano per una serie di motivazioni non semplicissime da trasmettere ma molto complesse molto soggettive molto soggettive spesso l'essere umano si trova a esprimere le sue scelte le sue strategie sulla base di variabili che non sono assolutamente monitorabili gli strumenti matematico razionali ce lo diceva anche Krohkotting sociologo che ha studiato anche lui ha sperimentato studiato teorizzato varie condizioni in cui la socialità avrebbe potuto esprimere interazioni più o meno competitive insomma anche lui ha riscontrato questa tendenza istintiva istintiva irrazionale alla cooperazione riconoscendolo come il vero segno caratteristico dell'umanità che ci distingue dagli altri umani dagli altri animali scusate ci distingue dagli altri animali questo era l'ultimo spunto di oggi siamo già oltre l'ora Stefano vuoi chiudere tu sì volentieri stavo anche guardando un po' il nostro piano perché la prossima volta avremo come ospiti Piero Camarini Rocco Bruno parleremo di aspetti legati alla cooperazione in termini di fluidità quindi parleremo di cooperazione e comunità di transizione e devo dire che per come è stata preparata è una delle diciamo delle lezioni più dense di suggestioni quindi avremo dei nuovi ospiti io ringrazio questi preziosissimi amici e ospiti e te innanzitutto perché questo percorso voglio dire questo a margine siamo a metà del percorso però incominciano a derivare a una serie di mail anche da persone che stanno acquisendo il videocorso perché sono sensibilizzate dalle conoscenze per la cooperazione guardate che noi stiamo offrendo qualcosa che non viene richiesto stiamo stimolando una domanda che non c'è sostanzialmente c'è di comprendere di più come fare a cooperare tra di noi non c'è questa domanda quindi stiamo stimolando una domanda e sto vedendo che pian piano nasce questa sensibilità per me già questo è un grande successo e quindi non posso che ringraziarvi per contribuire a questo e di questo ringraziamo anche gli spunti perché magari in far nascere questo seme è fondamentale anche la qualità degli ospiti che si sono alternati che si stanno alternando vi ringrazio i quelli di oggi Fabio Giua Cosimo Massaro è di Pellegrino sperando di avervi qui presto grazie a tutti buonasera grazie a voi a presto grazie a tutti